Non c'è coriandolo, ma di che cosa? Non c'è roba strana, assaggiala, non c'è roba strana, abbia il coraggio di assaggiarla, non c'è roba strana, abbia il coraggio di assaggiarla, assaggiala, io dico che non ci sono specie, cos'è quella cosa rossa, cos'è, perché non si, ho capito, non è peperola, assaggiala, è proprio piccante, Margherita, assaggia quel pezzo di finocchio, subito, assaggia il finocchio, ma che cos'è l'odori? Ma questo è un finocchio, visto? Ma come sei proprio stronza, eh? Grazie a tutti.